ciao ragazzi da un bambino oggi siamo a fare quel video che abbiamo fatto nella sala giochi c'è un sacco di casino eh ragazzi 1,2,2,4 ragazzi ho trovato i giochi hai fatto? i giochi i giochi i giochi i giochi i giochi è un po' un po' il è un po' bello è un po' e quando io sarò a prima io sto per la prima e io sto per la prima mi sto per la prima oh e io sto per la prima Buon appetito! Grazie per la visione! un po' anche un po' anche e lo dico nasce ciò traccio di labii è un po' anche un po' anche un po' anche questo è un po' anche è un po' anche un po' anche per un po' anche Sì, ancora poi ragazzi, sono ancora io, perché io voglio stare qui, un po' sui gattini, ok? Ora mi ha fitto, io sono qui! Ragazzi, sono qui, ti va! Ok, vi saluto, e allora via il prossimo video, ciao! Facciate sopra il tirame sopra, vieni là, ciao ciao ciao!